Carazionizzato dalla rapida evoluzione delle tecnologie sanitarie e dei modelli di cura e giustamente come arrivavano i colleghi prima, oggettivamente in due sistemi sanitarie diversi. Di fatto siamo stati chiamati ad un animale con coraggio e professionalità, vecchi schemi e implementazioni che decisamente devono essere innovative e funzionali nel contesto in cui operiamo. E vorrei permettervi di dirvi che non siamo secondi a nessuno, ok? Siamo professionisti che ci mettiamo in gioco, che ci forniamo e che ci mettiamo all'isposizione della comunità sanitaria e socio-sanitaria. Il Master di Faberino, credo di poterlo testimoniare a nome di tutti i colleghi di scienica che l'hanno frequentato e partecipato, ha saputo prima con il professor Massi e seguendo con il professor Cifari, essere costantemente in linea con l'evoluzione del cambiamento. Il Master ha saputo formare e utilizzare un numero di latessi o di cose che, in ambito malazionale, proprio per poterli candidare a ruoli direzionali in sanità. Oramai i nostri Masterizzati sono presenti in tutte le licenze sanitarie, a numero della regionale. Da 21 anni stiamo sistemando uno straordinario colloquio a livello degli insegnamenti, docenti universitari, dirigenti di strutture sanitarie, da tutta l'Italia, che arrivano qui e ci offrono un'alta formazione, sia sotto un filo scientifico che professionale, favorendo nel contempo uno scambio di opinioni con i discenti, quanti anche dell'esita delle società scientifiche di categoria. Abbiamo in sala il Presidente della Sifo, Arturo Cavaliere, e la Dirigenza Sifo, e davvero ci affidiamo a voi, proprio perché siamo davvero di fronte a una svolta epocale. O saliamo su questo treno o altrimenti rischiamo di rimanere ancorati troppo alle tradizioni e a una figura professionale del farmacista, sia in comunità che ospedaliero, che a mio avviso deve superare, ma Covid ci ha aiutato a mio avviso, a superare determinati ostacoli e di aprire ad altre opportunità di tipo professionale. Senza ombra di lungo possiamo affermare che il Master di Camerino ha formato intere generazioni di farmacisti manager, posizionati nei vari ambiti direzionali della sanità pubblica e convenzionati italiani, tutti legati da un forte senso di appartenenza all'Università di Camerino. E qui si è creato veramente un gruppo di 600-700 professionisti che ruotano intorno a questa sede universitaria. Per concludere, la mia raccomandazione è quella di sostenere con forza il fatto che questa splendida e meritevole esperienza accademica possa prosseguire negli anni futuri, grazie all'impegno straordinario di Carlo Cifani, che ringrazio per il cuore, con Maria Dittorio Riccioni e i suoi collaboratori, che ringrazio sentitamente anche a nome di tutti i colleghi. Un abbraccio.